Lo Stato controlla sua antitesi. Una continua lotta che sul territorio campano si ripropone quando le forze dell'ordine tornano a colpire duro le organizzazioni criminali. Auto dei carabinieri prese d'assalto, urla, spintoni, succede a Napoli e nella sua provincia, ma anche nei comuni del Casertano. Ed è successo anche questa mattina a Mondragone, quando a sfilare in manette sono stati gli appartenenti al clan Fragnoli Pagliuca, cosca a due teste, un tempo vicino ai casalesi, che riforniva di cocaina, hashish e marijuana le piazze dell'Alto Casertano e del Basso Lazio. Venti le misure restrittive eseguite durante la notte dai carabinieri del comando di Mondragone. Nelle indagini della direzione distrettuale antimafia, avviate lo scorso mese di settembre dai militari dell'arma, sono finiti anni di minacce, agguati e dati dimostrativi a scopo intimidatorio, che avvenivano attraverso armi da guerra, mitragliatrici, fucili e fino anche bombe a mano. Attentati anche ai danni di un imprenditore, che aveva provato ad aprire un'agenzia di pompe funebria Mondragone, idea immediatamente smorzata dagli uomini del clan, che con una serie di torsioni sono riusciti a far chiudere l'attività ed assicurare alla Eden SRL, l'unica impresa della zona, di lavorare in pieno regime di monopolio sul territorio. Tra gli arrestati figura anche il boss Roberto Pagliuca, reggente dell'organizzazione che aveva pieno potere sulle piazze di spaccio della zona. Quando il capoclan esce dal comando in manette gli animi si surriscaldano, solo l'intervento tempestivo dei carabinieri è riuscito a scongiurare il peggio.